ragazzi appena consegnato lo apriamo sì lo apriamo insieme e allora ragazzi questo pacco è il secondo che ordino tramite il mio canale telegram cioè non fate solo voi affari ma li faccio anche io grazie al mio canale telegram se non sei iscritto si chiama fox tech best shopping lo cerchi su telegram e da lì vedrai quanti prodotti a prezzo eccezionale questo ragazzi il secondo prodotto del genere che acquisto il primo tastiere mouse forse hai già visto il video è andato ragazzi di lusso spero che anche questa volta mi vada di lusso imballo perfetto a differenza del primo ordine e allora sono ragazzi tre livelle gialle tipo giallo bunker sono perfette anche questi presi 7 euro ragazzi invece di una trentina di euro 7 euro perciò se anche tu vuoi fare affari ti lascio sotto in descrizione il link al canale telegram aspetta che lo apro 1 livella 1 bellissima gialla madonna stupenda ti lascio anche il link a queste livelle se ti servono madonna io veramente allora quando ho visto il prodotto detto io saranno tutte storte saranno tutte graffiate invece guarda guarda per essere questa lunga un metro è perfetta proprio perfetta dritta al millesimo questo è 60 centimetri e questa è 40 centimetri comunque andiamo avanti ragazzi come funziona e come si cabla un impianto ibrido fotovoltaico eolico sotto in descrizione vi lascio tutti i link a questi prodotti che andremo ad utilizzare innanzitutto il cuore il cuore del tutto l'impianto ibrido ibrido solar più turbine ok perciò energia solare più energia dal vento o potrebbe anche essere energia dal corso di un fiume però in questo caso usiamo il vento ci serve un controller un controller un controller speciale perché ragazzi un controller speciale perché questo ha una porta ok qui a una porta e qui a un'altra porta qui ci va connesso un componente particolare che questo lo disegniamo così si presenta ragazzi come una grande resistenza elettrica a degli avvolgimenti in vario colore solitamente verde quello che ti farò vedere sotto io e questa è la protezione per l'impianto eolico perfetto e va connessa con i terminali laterali del con questo è il controller ibrido in questi due c'è un positivo ok è un negativo perfetto qui ci mettiamo bassa attenzione uscita uno e due qui noi abbiamo per esempio ragazzi 24 volt in corrente continua utile a cosa ad alimentare per esempio delle lampade perciò disegniamo una lampadina ok questa mi alimenterà per esempio le mie un impianto a bassa tensione che possono essere lampadine poi cosa abbiamo abbiamo tutto il comparto di ingresso perché questa ragazzi è la prima uscita uscita a bassa attenzione poi abbiamo una due tre e qui cosa ci va ci va ragazzi la pala eolica paleolica che disegniamo ok 1 2 e 3 qui mettiamo ok questa è la pala eolica perfetto i tre cavi in corrente alternata provenienti dalla pala eolica dovranno andare qui connessi questa quando gira lui che cosa fa ne manda una parte al nostro impianto bassa tensione la restante parte cosa fa ora ti faccio vedere la restante parte la trasferisce su un'altra uscita che uno e due qui ragazzi ci vanno le batterie batteria uscita ok positivo negativo e qui c'è il blocco batteria perciò accumulo qui c'è l'accumulo accumulo batteri ok qui ci va positivo negativo alla batteria perciò ragazzi quando l'energia eolica in funzione la turbina produce entra dentro il mio controller e mi da sia energia elettrica sul canale in corrente continua ma nello stesso tempo mi ricarica la batteria cosa manca bravo l'impianto fotovoltaico dato che questo è un controllere ibrido perché si chiama ibrido ibrido perché permette di far lavorare due tecnologie il solare e l'eolico qui abbiamo altre due porte una positiva e una negativa questa è positiva anche questa è negativa perfetto qui usciamo una ok e qui ci disegniamo i nostri pannelli solari per esempio un impianto ok questi sono dei pannelli solari connessi con il controller ibrido ragazzi questo è lo schema sempliciotto proprio sempliciotto per poter andare a costruire un impianto fotovoltaico eolico semplice ragazzi semplice all'osso tu mi dirai fox non hai utilizzato nessuna protezione cioè non c'è un quadro di campo non c'è un sezionatore non c'è nulla sì è vero hai ragione mancano alcuni componenti però prima di mettere quelli ti voglio far capire un'altra cosa perché tu mi puoi dire fox ma io che me ne faccio con la 24 volt sulle lampadine quando io devo far lavorare l'appartamento cioè devo alimentare il mio appartamento le mie utenze a 230 volt hai ragione aspetta non correre perché facendo questa installazione manca ancora un componente e io te lo disegno qui boom questo è inverter inverter l'inverter cosa fa prende la tensione in dc e la trasforma in ac la manda fuori fase neutro 230 volt e tu proprio da qui ti puoi andare ad alimentare il tuo appartamento verrà alimentato esclusivamente da questo inverter inverter che andrà accablato sull'accumulo in più avrai anche come abbiamo detto una linea 24 volt in corrente continua ragazzi così facendo l'impianto è quasi completo mancano diciamo gli accessori di protezione cioè qui mettiamo un bel interruttore a tre vie ok 1 2 3 così se vogliamo staccare per qualsiasi motivo l'alimentazione in entrata possiamo farlo idem un bel quadretto con tutti gli interruttori fusibili sezionatori e scaricatori idem ma anche in uscita fusibili e tutto ciò che serve ecco linea interruttore ingresso uscita comunque è anche qui sulla batteria ovviamente batteria che poi dipende da che batteria utilizzi se è una batteria litio se è una batteria piombo gel se sono quelle litio sappi che le batterie devono avere una bms solitamente se acquisti batterie già assemblate hanno una bms se invece acquisti le celle per esempio l'ifepio 4 sappi che non hanno una bms devi tu prendere una bms fare le connessioni serie parallele in base a quanta tensione e quanta corrente potenza massima in uscita vuoi e andare appunto a installare la bms per tutto questo ti ricordo i miei fascicoli su amazon niente ragazzi per questo video è tutto io ti ringrazio che sono belle dalle livelle e da fox è tutto ciao ragazzi e al prossimo video ciao 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 ciao